Panerai Luminor Crono. Eleganza e funzionalità. Se siete alla ricerca di un orologio da polso che sia al tempo stesso elegante e funzionale, il Luminor Crono potrebbe essere la scelta ideale per voi. Il Luminor Crono è un orologio da polso prodotto dalla nota casa orologera italiana Panerai, fondata nel 1860 a Firenze. Il nome Luminor deriva dal materiale luminescente usato per rendere visibili le lancette e gli indici anche al buio, mentre il termine Crono si riferisce alla funzione cronografica. La funzione cronografica del Luminor Crono è una delle sue caratteristiche più importanti e apprezzate. Si tratta di una funzionalità che permette di avviare, fermare e azzerare il cronometro. Questa funzione è utile per misurare con precisione intervalli di tempo brevi, come ad esempio il tempo impiegato per percorrere una certa distanza o per svolgere una determinata attività. La funzione cronografica può essere anche rattrapante, cioè in grado di misurare due tempi contemporanei, o flyback, cioè in grado di azzerare e ripartire con una sola pressione del pulsante. La funzione cronografica è visualizzabile su due suquadranti con lancetta centrale dei secondi cronografica a forma di bastone. Presenta un indicatore di riserva di carica ore 6, datario con finestrella tra le ore 4 e le ore 5 che indica la data del mese corrente. La funzione GMT che consente di visualizzare un secondo fuso orario, utile per chi viaggia spesso o a contatti con persone in altre parti del mondo. Dal quadrante è possibile visualizzare il contatore dei piccoli secondi e in base al modello al suo interno c'è anche la funzione giorno-notte. Le lancette delle ore e dei minuti sono a forma di matita e sono luminescenti, anche gli indici e i numeri arabi sono luminescenti. In base al modello la lunetta presenta una scala tachimetrica. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile o in titanio, due materiali resistenti e leggeri, che conferiscono all'orologio una presenza imponente e al contempo elegante. La cassa presenta inoltre una corona protetta da una leva a ponte, un elemento distintivo dei modelli Luminor, che garantisce una maggiore intermeabilità. Il cinturino dell'orologio è facilmente intercambiabile grazie a un sistema di sgancio rapido e può essere scelto tra vari materiali e colori, come il caucciù, il cuoio o il metallo. Alcuni esemplari rari di Luminor Crono hanno raggiunto quotazioni elevate sul mercato, rendendo questa collezione un'opzione interessante anche per i collezionisti.